Musica Si è svolta questa mattina la presenza di autorità civili, religiose e militari la cerimonia del passaggio di consegne della Guardia Costiera di Agropoli. Il comandante Valerio Di Valerio ha salutato la città lasciando la guida della Capitaneria di Porto al tenente di Vascello Alessio Manca. Sono stati due anni impegnativi però sono stati due anni belli, porterò un bellissimo ricordo sia di Agropoli che di tutto il Cilento. Possiamo ricordare l'impegno che ha svolto sul territorio, quali le attività che la Guardia Coste al suo comando ha realizzato in questi anni. Si, abbiamo assicurato tutti i servizi del corpo partendo dalla salvaguardia della vita umana in mare, abbiamo fatto diversi interventi di soccorso, mi piace ricordare l'ultimo, l'assistenza al traghetto relax con 125 passeggeri a bordo e abbiamo evaso poi diverse deleghe dal punto di vista ambientale sotto l'egida della Procura della Repubblica di Valo della Lucania. Abbiamo garantito il rispetto, la tutela dell'intera filiera ittica e gli altri compiti istituzionali del corpo. Abbiamo raggiunto dei risultati anche importanti, il ringraziamento fondamentale però mi sento di farlo all'equipaggio, a tutto il personale di Circomara Agropoli, uomini e donne che veramente si sono dedicati all'istituzione senza risparmio alcuno. Agropoli è una città bellissima e veramente merita davvero tanto, Agropoli e gli agropolesi. Oggi diciamo che è il mio primo giorno di scuola, mettiamolo così, sono veramente emozionato, ma nel contempo molto felice perché comunque insomma il posto in cui sono stato destinato è davvero bello, è una continua sorpresa, il comandante precedente me l'ha presentato benissimo e nei primi giorni in cui sono stato qui non posso che confermare quanto mi è stato detto. Il posto è bello e quindi rappresenta anche un onere affinché io con il mio lavoro, con i miei uomini possiamo contribuire a mantenerlo tale e in assolutamente a quelli che sono i nostri doveri istituzionali. Vuole lasciare un messaggio ai cittadini di Agropoli come inizio del suo mandato proprio qui nella città? Sì assolutamente, è doveroso, mi riprometto insomma di essere un'amministrazione aperta, di essere disponibile alle varie stanze, a contemperarle tutte nell'ambito di quelli che sono i rispettivi doveri istituzionali, insomma cercherò di mischiarmi anche con la comunità, il posto è bellissimo, di viverlo, mi accompagna anche qui mia moglie quindi mi vedrete in giro, insomma cercherò di vivere davvero il bene il posto, ripeto il mio ufficio è aperto, insomma massima disponibilità. Questa mattina cambio al vertice per la Guardia Costa di Agropoli, il comandante Valerio di Valerio lascia la città dopo un impegno profuso per il territorio a 360 gradi. Assolutamente sì, come ho detto nel mio discorso di commiato al comandante di Valerio, un'opera che svolta non solo a tutela della collettività ma anche a tutela dell'immenso patrimonio che il territorio ha, patrimonio ambientale e naturalistico, con tante attività sotto la legge della Procura della Repubblica che l'ufficio circondariale marittimo ha fatto. L'augurio che faccio al nuovo comandante è quella di proseguire nella stessa scia seguita e percorsa dal comandante di Valerio e sicuramente saprà ben fare. Grazie. Grazie.